il primo quarto giocondo per Iacono buona difesa qua del numero 11 classe 1997 però però Mike Iacono è un giocatore pazzesco e soprattutto Iacono manda al bar Nicolò Tandoi due grandissimi amici e poi c'è Cinque Palmi che si prende la linea di fondo ma deve continuare a sfruttare questo tema del tattico della partita Iacono finta la penetrazione poi vede il taglio dal lato debole di Peppe Giocondo primi due per Giocondo 6 minuti è tutto ancora da scrivere Colombo per Bassani arriva quasi la stoppata Nicolò Tandoi però bravo Bassani e vedendo questa partita sembra una squadra che può competere può dar fastidio a tanti adesso torniamo però qui a opera con il primo canestro del secondo tempo realizzato da grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.